Il Comune di Moio della Civitella in provincia di Salerno aderisce anche per l'anno 2019 al progetto di assistenza Condividere i bisogni per condividere il senso della vita, promosso dalla Fondazione Banco Alimentare Campania Hollus per l'anno 2019. Il Banco Alimentare Campania Hollus è un'organizzazione partner capofila autorizzata dal Ministero della Distribuzione dei Prodotti Alimentari destinati agli indigenti che ogni giorno è impegnato nella raccolta delle eccedenze alimentari e la redistribuzione a persone povere ed emarginate attraverso l'organizzazione partner convenzionata. A tal proposito il Comune di Moio della Civitella avvisa tutti i cittadini che fino a lunedì 4 marzo 2019 potranno essere presentate le domande per il Banco Alimentare per l'anno 2019.